Diventare volontario per me è stato come occupare del tempo. Mi sono accolto che mi avanzavano delle ore, ho deciso che in questo tempo io dovesse dedicarlo a qualcuno che era meno fortunato di me. Le prime attività che ho svolto per Ant erano di tipo promozionale, quindi le ho accolte a fondi attraverso i banchetti. Da tre anni circa, seguo invece proprio due signore e per loro faccio le attività un po' che servono. Insomma, quindi la spesa in alcuni casi, che può essere una spesa settimanale, piuttosto che delle commissioni in banca, per i suoi uffici postali, mi accompagno per fare delle visite medico, oppure mi faccio carico per esempio di prenotare le visite mediche per loro. Io penso che ognuno dovrebbe dare del volontariato, ogni persona dovrebbe dare del volontariato, perché si capisce che nei momenti di bisogno pensare che ci sta qualcuno accanto, che ti possa dare una mano e non diverla da solo, è una cosa molto molto importante. La difficoltà maggiore sta soprattutto dal punto di vista personale, quanto, ahimè, a volte questi amici mancano. Allora quello è il momento, ma che non si diverbera poi nell'attività che non spoggiano nei confronti degli altri, almeno per quanto mi riguarda. Ma è un discorso personale, cioè di elaborare la mancanza, l'elaborazione della mancanza di una persona alla quale vi è riaffezionato. Ce ne possono essere diverse, alcune riguardano proprio anche la gestione del rapporto con le persone a cui vai a fare compagnia, o per le quali svolgi appunto le attività che ho menzionato prima. Perché in alcuni casi le persone possono un po' andare oltre, no, al rapporto che c'è tra volontario e paziente ANT. Si risolvono facilmente, nel senso che comunque ANT, nel momento in cui tu diventi volontario, si rende disponibile per supportarti in tutte le fasi di svolgimento della tua attività. Quindi quando io ho avuto bisogno, che poteva essere un bisogno morale o un bisogno materiale per risolvere una criticità proprio pratica, ho contattato o Rossana, che è la nostra referente dei volontari, o a dire che è lo psicologo. E si è sempre risolto tutto anche con estrema facilità.